Altre notizie Aggiornate le pagine internet del Difensore Civico presenti su www.cr.piemonte.it Non cambia la pagina iniziale, con le ultime news e i recapiti. Il menu sulla sinistra è stato compattato per categorie, in modo da rendere la ricerca più semplice. Introdotte due importanti novità, la newsletter e le domande frequenti. La prima è una mail informativa nella quale il Difensore Civico comunica direttamente con il cittadino per presentare la sua funzione pubblica. Nella sezione domande frequenti l'utente può capire se la sua situazione rientra in una delle casistiche affrontate dal Difensore Civico e seguire l'iter indicato. È stato inaugurato di recente un nuovo servizio della Difesa Civica aperto a tutti i cittadini, non solo del Piemonte, ma in generale a tutti coloro che abbiano dei problemi che richiedano la necessità o l'opportunità di un intervento del Difensore Civico per valorizzare il loro diritto ad una buona amministrazione contro burocrazia, inefficienze e disservizi. Io spero che tutto questo funzioni, che i cittadini del Piemonte, ma i cittadini in genere, anche coloro che risiedono in Piemonte, possano utilizzare al meglio questo servizio e venire da noi quando ne hanno bisogno.